senatore razzi buonasera vediamo con sorpresa che si è fatto crescere la barba la barba è bella la barba è bella però dopo un po stufa e in più speravo che i capelli rimanessero sopra la barba è bella ma stufa e minchia la barba abbiamo saputo che recentemente ha visitato la nostra regione e si è interessato in particolare al carnevale di ponce martin innanzitutto che impressione ha avuto della valle d'aosta la valle d'aosta è bella è bella come il mio abruzzo però è una regione astronoma autonoma e come il friuli venezia giungla venezia giungla il trentino alto adipe alto adige c'è anche quello basso adipe no 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 il trentino basso adipe non esiste proprio ma torniamo alla valle d'aosta la valle d'aosta la conosco bene come la mia amata svizzera che è dall'altra parte delle colline esatto vi si arriva attraverso il gran san bernardo mentre per la francia c'è il piccolo san bernardo non credo non credo perché io conosco il gran san bernardo che è un grande cane grosso conosco la bernarda e non conosco il piccolo san bernardo perché secondo me di cani piccoli san bernardo non ce ne stanno e che cosa conosce della nostra regione conosco il presidente grolandin si dice rolandin conosco appena tutti i vostri paesi come prete sanderriere pre sanderriere dove ci sono le terme e non credo non credo perché le terme mangiano i vestiti gli accappatoie o il legno ma no quelle sono le tarme ma il legno è più grave perché in valle d'aosta fanno delle sculture linee 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 e i grassorilievi il tutto tonti e se le terme le attaccano è finita e se le mangiano come la fagiolata dei fagioli crassi del lunedì e poi conoscerà il centro principale augusta pretoria e io non credo che sia giusto insultare augusta anche se era una grande trova no ma è quello il nome antico di aosta ah aosta è bella aosta è bella anche se però a me piace più san binsanto no san binsan perché c'è lei perché sì lì perché c'è il casino il gran casino casino della valle è lì se punti il vitalizio su 16 che il numero del puoi vincere 34 vitalizi e anche più po 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 è azzardo è azzardo io non credo non credo anche perché azzard io lo guardavo quando era ancora piccolo e che quelli che entravano dentro la macchina passavano per il finestrino vabbè che altro conosce della valle d'aosta ma beh conosco le traduzioni miliardarie miliardarie tradizioni millenari come la battaglia delle renne ma che renne quelle sono delle vacche perché poverine che colpa ne hanno se gli hanno fatto portare le corna anche mia cognata ma che ci importa di sua cognata ci parli invece della desarpa oh la desarpa è bella la desarpa è bella è perché ha un suono dolce anche mia figlia voleva suonare il bombardino ma poi ha cambiato e si è messo a suonare la la desarpa come negroni ma sì quello si chiamava nerone e poi quella era la cetra non credo non credo proprio perché il quartetto cetra non suonava cantava solo e cantava non ti fidare guarda in là con mezzanotte ma torniamo alla valle d'aosta senti amico mio amico caro amico mio ascolta te lo dico in regionale fatti autonomamente li cazzi tua amico mio fatti una regione tua tutta tua con i buoni benzina e i buoni i contributi fatti la zona franca fatti franca portala in autostrada portala sull'aeroporto fottitene che è tutta una malvivenza tieni nove decimi nelle tasche po 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 e adesso fammi una domanda semplice dai va bene va bene va bene va bene allora senatore razzi veniamo al carnevale in valle d'aosta è famoso quello della kumba fredda questo no non credo che in valle d'aosta sia famosa la macumba fredda che la macumba è una cosa africana no e sudamericana e la fa la caldo la fa caldo almeno più 33 e non può essere fredda quindi non credo proprio allora passiamo al carnevale di verrez dove c'è la castellana e pier dentro no non credo non credo che pier possa entrare nella castellana meno che non gli chieda il permesso ma che permesso sono dei personaggi così come il gran ciambellano beh questo proprio non credo non credo perché non so se qualcuno ha visto se c'ha un bellano io a me mi interessa faccio i cazzi miei ma ci dica almeno che impressione ha avuto del carnevale di ponce martin la più amata è la ninfa no no non credo non credo che la ninfomane sia proprio amata ma non nifomane la ninfa la ninfomane è una botta e via sì ma proprio amata non credo vabbè l'accompagnano due fresche giovani le ancelle io non credo che siano fresche perché le ascelle puzzano a meno che non sono se sono fresche solo perché ci si mette sopra il deodorante lì c'ha persona ma che lì c'ha persona veniamo ai tribuni i tribuni i tributi tribuni i tributi è brutto perché bisogna pagarli però aumentano sempre però non a pozzamartin che diminuiscono ma poi ci sono gli antichi abitanti di questi luoghi i salassi ah i salassi non credo non credo non credo perché salassi li facevano i dottori quando c'era ancora garibaldi ma sì guardi concludiamo con il rogo del diavolo il rogo ma non credo non credo anche perché non mi sembra che il diavolo era piuttosto gli uccelli gli uccelli di rogo ma guardi senatore che amico mio caro amico mio caro caro amico mio senti a me te lo dico in carnevalese fatti li cazzi tu senti me fatti un carnevale tutto tuo dove tu fai tutti i personaggi l'infomane consolato tributo così ti prendi tutti gli applausi e poi fai finta di niente e ti intaschi tutte le offerte della profagiolata minchia fagiolata e te ne vai al carnevale di rio dove là ci sono quelle con le chiappe fuori con le tette al vento e non con i maglioni spessi di lana che punge e adesso fammi una domanda sul carnevale di ivrea va bene va bene ok allora senatore razzi vicino a ponsa martin c'è un altro carnevale famoso quello di ivrea come lo vede il carnevale di ivrea è bello è bello però io non ci andrei più perché un giorno mi sono preso in mezzo alla fronte un'aranciata ma no vuol dire un'arancia la c'è la battaglia dell'arancia no no era proprio una bottiglia di fanta ma allora comunque non indossava il cappello frigio no no non credo che fatta bene mettere il cappello nel frigo perché fa già freddo c'è meno 33 e il cappello deve tenere caldo ma allora in conclusione è stato ben impressionato dalla valle d'aosta e dal carnevale di ponsa martin no io non credo che la valle d'aosta mi abbia fatto impressione grazie a tutti